Il volume La legione ungherese contro il brigantaggio è il risultato di una serie di ricerche che abbiamo avviato con il Presidente del Comitato di Roma dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano Antonello Biaggini qualche anno fa e ha trovato il luogo di edizione migliore nei tipi di nuova cultura all'interno della collana Storia d'Europa, History of Europe. Questa collana scientifica è stata un'iniziativa voluta da un gruppo di docenti relativi appartenenti al Dottorato di Ricerca di Storia d'Europa della Sapienza e fortemente voluta dalla professoressa Giovanna Motta la quale negli anni di cui ho seguito corsi in metodologie mi ha stimolato ad una pubblicazione integrale di documenti relativi alla storia d'Italia e di uno dei temi più controversi che è appunto il brigantaggio post-unitario proprio con una formula capace di unire capacità scientifica e un alto livello, un buon livello di presentazione scientifica insieme anche ad una introduzione, ad una prospettiva di divulgazione al grande pubblico. Questo perché la collana di Storia d'Europa ha questa aspirazione pubblicando in italiano, in inglese con un comitato scientifico di riferimento di professori, esperti e accademici internazionali con un doppio referaggio cieco ha la possibilità di rientrare in tutti i parametri previsti dalle istituzioni ministeriali italiane ed internazionali per la valutazione dei prodotti della ricerca e nello stesso tempo vuole presentare attraverso l'editore Nuova Cultura anche al grande pubblico via ebook e a livello di diffusione internet temi e tematiche che sono capaci di andare ad articolare gli aspetti più specifici della storia d'Europa, non soltanto naturalmente la storia politica ma anche nei risvolti di storia sociale, cultura, antropologia, economia, relazioni internazionali. E quindi in questo contesto con un design, una presentazione sobria ma anche curata nei dettagli grafici abbiamo pubblicato vari testi. Questo volume sulla legione ungherese contro il brigantaggio è il primo di una serie di volumi che vogliono presentare l'edizione integrale dei documenti relativi a questa tematica e questi documenti sono relativi ad uno specifico archivio che è l'archivio dell'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito che è uno degli archivi più interessanti non soltanto da un punto di vista militare ma anche per quello che riguarda gli aspetti che nel tempo venivano rapportati nei documenti militari quindi sono spesso documenti che fanno riferimento a paesi stranieri o in questo caso a operazioni a livello di territorio nazionale ma che riportano quindi dei dati economici, sociali, individuali molto interessanti e naturalmente io ho avuto la fortuna di poter seguire questo percorso di studio e di ricerca attraverso il professore Antonello Folco Biaggini che è stato il primo animatore, il primo esperto civile che ha approcciato questo archivio con un interesse che non fosse esclusivamente militare e questo ha portato appunto il professor Biaggini a pubblicare nel tempo attraverso i tipi dello Stato Maggiore dell'Esercito ma anche attraverso altre case editrici come Nuova Cultura in questa e in altre collane dei volumi che pubblicano e presentano documenti di questo stesso archivio proprio sulle relazioni internazionali o le operazioni che l'Italia nel tempo dall'unità in poi ha svolto all'estero e quindi per esempio le relazioni degli addetti militari all'estero hanno significato un importante apporto a quello che è la conoscenza storica del nostro paese e di illustri italiani che si sono fatti rispettare e apprezzare nel tempo. Nello specifico in questo volume i documenti che vengono illustrati sono i documenti relativi a quel corpo, quella legione, quella unità militare operativa che viene creata durante la spedizione di Garibaldi e che trova un proprio nucleo in quegli ungheresi che già precedentemente attraverso le fasi della rivoluzione dal 48 in poi erano rimasti fuori dal paese o erano rimasti implicati all'interno delle vicende rivoluzionarie, quindi in senso antiostriaco e quindi rimanendo un po' al limite di quello che era la mobilitazione in anni che possono essere anni di pace ma sono sempre caratterizzati da un sommovimento di rivoluzionario, di mobilitazione mazziniana, garibaldina nell'Europa dell'epoca e che quindi trovano la possibilità di esprimere la loro volontà rivoluzionaria per la propria nazione che era la nazione ungherese, però in questo caso per combattere per una causa comune ed analoga che era quella la causa italiana e quindi questi nuclei di legione ungherese che precedentemente si erano costituiti attraverso i fuoriusciti tra i prigionieri che dal 48 in poi si trovano ad essere mobilitati quindi contro il proprio governo in quel caso che era il governo austriaco nel 48 e quindi si trovano ad essere dei militari, spesso di carriera che passano da un campo all'altro per mantenersi operativi ma che trovano poi delle operazioni che animano il proprio cuore, la propria passione e quindi questo è stato il 1860 e la sferizione garibaldina. Uno dei fattori più interessanti è che proprio Stefano Tur, uno dei grandi patrioti italiani, un ungherese che dal 48 si schiera in senso anti-ustriaco si trova nel 1860 quindi a raggruppare una serie di soldati ufficiali, ussari che erano dei validissimi cavallerizi, cavalieri e ad animare quindi e a riunire una legione proprio durante la spedizione dei mille e questi corpi saranno particolarmente apprezzati anche e soprattutto a livello di capacità di battaglia perché nella stessa battaglia del Volturno questi documenti illustrano come l'intervento degli ungheresi è stato uno degli elementi risolutivi per la vittoria. Una cosa interessante che questi documenti nella prosecuzione nel 1861 riescono ad illustrare è il fatto che allo scioglimento dell'esercito del sud e dei corpi che si erano quindi raggruppati intorno all'attività garibaldina, questo nucleo viene poi reso di nuovo operativo in senso di ordine pubblico e viene reimpiegato nelle regioni meridionali quindi in Campania, nel Cilento, nella zona appenninica, Lucano Calabra, nel versante pugliese poi successivamente anche nelle Marche e negli Abruzzi viene impiegato proprio per la propria capacità ed efficienza contro il brigantaggio postunitario. Il grande brigantaggio come si chiama quello di questo periodo che era esploso attraverso una serie di complessi fattori che naturalmente erano dei fattori antropologici, culturali, sociali, socio-economici molto forti a cui si andava ad innestare l'attività legittimista borbonica durante la risalita dei garibaldini e successivamente naturalmente sovversiva e reazionaria, animata dagli ambienti romani e quindi cattolici dello Stato Pontificio che naturalmente era ai margini di queste aree e spesso che naturalmente costituiva anche il punto di riferimento territoriale per l'approvvigionamento logistico e la riorganizzazione militare e quindi fu capace di mettere obiettivamente in discussione quello che era questa nuova realtà internazionale, un nuovo protagonista internazionale che era diventato ormai un medio grande stato quale l'Italia nel 1861. Diciamo che l'interesse di questi documenti è che sono capaci di presentare questa documentazione con una serie anche di fattori, fattori culturali, antropologici di descrizione locale, di interconnessioni sociali all'interno della nuova struttura amministrativa e quindi vedendo anche come molto spesso questi ungheresi intervenivano al posto della Guardia Nazionale che a livello locale invece era fortemente interconnessa dai familismi e dalle amicizie che furono capaci per un periodo di mantenere al potere una classe di riferimento borbonico che era pronta a sovvertire lo Stato nel caso in cui ci fosse stata l'occasione e quindi anche ad essere impiegate nei casi di maggiori ribellioni come furono quelle che caratterizzarono alcune religioni del Sud, una per tutte la regione di Melfi in questo periodo. Credo che possa essere un contributo soprattutto dopo 150 anni, abbiamo finito le celebrazioni, il ripensamento della nostra storia unitaria del 2011 e quindi è stata un po' l'occasione per avviare questo studio e quindi un contributo per poter proseguire questo genere di studi. Inoltre è una grande soddisfazione per me poter ricevere come è venuto quest'estate il premio per la cultura Il Vello d'Oro presso il Comune di Roccaraso con un consiglio scientifico, un comitato promotore di grande autorevolezza all'interno del quale ci sono istituzioni pubbliche private, tra cui le università di Roma, la regione Abruzzo, il comune e provincia abruzzesi, proprio per l'interesse che questo tema può avere a livello non soltanto di storia locale, ma nel più ampio ambito di storia nazionale. È interessante anche il fatto che all'interno di questi studi si vede come il contesto europeo dell'epoca emerge continuamente sia da una parte, parliamo appunto di non soltanto tra l'altro di ungheresi in sé, di lingua o di nazionalità, ma anche di coloro che venivano dalle terre d'Ungheria e che quindi venivano considerati e venivano definiti ungheresi. E quindi anche dall'altra parte la lotta contro i legittimisti e coloro che molto spesso per esempio dalla Spagna, dalla Catalogna, dalle terre d'Aragona, venivano a dare manforte all'azione pontificia e borbonica e quindi si trovavano a combattere una sorta di conflitto, un vero e proprio conflitto dell'epoca nelle nostre regioni appenniniche del centro-sud. E quindi questo è stato valorizzato appunto dal comitato del premio Il Vellodoro di Roccaraso e questo naturalmente è anche una soddisfazione per la possibilità che questi studi possano continuare ad apportare alla conoscenza della storia d'Italia e quindi ringraziamento a coloro che stanno apprezzando questo volume all'interno della colonna di storia d'Europa per i tipi di nuova cultura.